Ecco questa è la squadra 19 con il caposquadra che si è allenato tutto l'anno per questa discesa Dovrà essere distaccato da sua figlia, pensa di riuscire ad arrivare davanti o sarà dura? Sarà dura Marika? Allora dubiti anche tu però mi raccomando fino in fondo a palla almeno che fai tirare fuori la lingua al vecchietto Stasera dieta e tu? Io raccolgo i pezzi del mario? Io sono la scopa Bisogna che mi ricordo il muro perché l'anno scorso il fichetto l'ho fatto C'è una grossa competizione, fa i vari team, questo come vedete è il 19, è uno dei più competitivi C'è tensione, non riescono a stare fermi, cercano urgentemente ma il primo barco adesso vi faccio vedere è a 7 km là in fondo e quindi se la devono tenere fino all'arrivo, in bocca al lupo ragazzi